Stop, clic? Stop, clic? Stop, clic? Stop, enough? Stop, no wreck Stop, 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 stop My house is near the here, Batik shop Do you want to see? Yes, yes Ah, dovrei anche parlarvi dell'arte del Batik Ma la tipa che lo vendeva era così odiosa Una perfetta schiavista occidentale con la puzza sotto il naso Ci siamo odiati a vicenda a prima vista Comunque il tipo era un venditore nato E alla fine mi ha portato a fare un massaggio agli urvedico Per il massaggio agli urvedico deve rezzare le orecchie alla fabia Perché mica esistono solo gli amam a questo mondo E il massaggio in questione ha bisogno di pochissimo spazio Nel retro del suo negozio si potrebbe fare benissimo Bastano due lettini a oli naturali in quantità e qualità diverse E una graziosa menegica ragazza Il seguito è stato più deprimente Il driver mi ha portato a casa sua e mi sono venuti attacchi di depressione A vedere in che condizioni vivevano lui, la moglie e i due figli Una povertà che noi neppure immaginiamo A A A A A A A A A La, 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 la. Preso da un buon cuore esagerato ho finito per lasciargli una mancia eccessiva e quando sono arrivato a casa mi sono accorto che la graziosa ragazza del massaggio mi aveva anche sfidato dei soldi dal portafoglio. L'ho sentito come un tradimento. Questi, con i loro graziosi sorrisi, sono più laduncoli degli altri in fondo. Basta saperlo. Dall'innamoramento sto passando alla presa di coscienza, come vedete.